Lo Stato Islamico ancora controlla vaste aree nelle province orientali di Deir el-Zura, il confine con l'Iraq, ma la perdita di Raqqa sarebbe per l'ISI su un colpo mortale. Dopo la liberazione di Mosul qualche giorno fa, la guerra al Califato si è spostata qui, dove la battaglia è entrata nella fase finale. Il 6 giugno scorso le forze siriane democratiche guidate dall'IPG hanno iniziato l'offensiva per la conquista della città. Al momento la sfida da affrontare riguarda i civili e il fatto che questi vengono utilizzati come scudi umani. A causa di questo i soldati stanno avanzando lentamente per garantire la sicurezza delle persone. Per questo ci rivolgiamo a loro chiedendo di raggiungere un luogo sicuro. Agli inizi di luglio le truppe dell'esercito siriano si sono assicurate il controllo dell'autostrada tra al-Rasaf e Traia, conosciuta anche come Sergiopoli. La prima costruita intorno all'VIII secolo è un importante sito archeologico, oggi in gran parte distrutto dati di vandalismo dell'Isis. Città dominata dagli assiri e rattraversata dalla strada costruita da Diocleziano in epoca romana, importante via del traffico commerciale.